La Royal Family Britannica è nuovamente al centro di polemiche, con Kate Middleton visibilmente infastidita e il principe William che manifesta una forte indignazione. La situazione all'interno di Buckingham Palace appare critica, tanto da mettere in discussione la stabilità della famiglia reale. Il principe William Furioso.Una situazione di crisi per la Royal Family. Il mese di agosto si rivela critico per la Royal Family Britannica, che affronta nuove sfide mentre le condizioni di salute di re Carlo deteriorano a causa di un cancro. La crescente preoccupazione sulla possibile successione del trono, in caso di sviluppi inaspettati, contribuisce a un clima di instabilità. Allo stesso modo, Kate Middleton sta affrontando una malattia che ha portato a pause dalla vita pubblica, lasciando il consorte, William, a gestire da solo le pressioni esterne. Recentemente, si sono sollevate voci riguardanti una potenziale crisi nella coppia, alimentate dalle tensioni familiari che coinvolgono il principe Ferri. La rabbia di William e Kate verso Ferri. Le tensioni nella Royal Family sembrano sempre orbitare attorno al principe Ferri, attualmente impegnato in un periodo difficile con Meghan Markle. Il desiderio di riavvicinarsi alla famiglia è complicato dall'eredità di conflitti passati, amplificata in particolare dalla sua autobiografia Sper, che ha contribuito a incrinare i rapporti con i familiari. Ferri sottoaccusa spettegules.itara polveri nuove polemiche legate a una nuova eredità che concerne la somma di 8 milioni e mezzo di dollari destinata al duca di Sussex, in accordo con le volontà della defunta regina madre. Questa decisione ha sollevato forti reazioni, in particolare da parte di William e Kate, che la considerano inappropriata viste le azioni passate di Ferri, ritenendo che non meriti tali benefici. Le conseguenze delle polemiche familiari, il dissenso tra i fratelli appare profondo, con un legame ormai compromesso e senza segni di riconciliazione. Ferri, che a breve compirà 40 anni, continua a essere formalmente parte della famiglia reale e, di conseguenza, la somma ereditata resta a lui prevista. La fragilità di questa situazione sembra accentuata dalle risposte emotive di William e Kate, che considerano questa polemica sterile, inflazionata da eventi passati. Tale dibattito ha polarizzato l'opinione pubblica nel Regno Unito, sollevando interrogativi su che futuro attende la Royal Family.